Uno chef italo-scozzese ha riprodotto sulla pizza il volto di Marlon Brando, vero o falso? Vero! Vero! Francesca la corsa! Il pizzaiolo italo-scozzese Domenico Crolla è abile a riprodurre i volti dei personaggi famosi sulle pizze. Non solo Marlon Brando è finito sulla pizza Margherita, ma anche Bruce Lee, Obama e il suo avversario Mitch Romney. Con mozzarella e pomodoro lo chef riproduce sedilmente i volti dei personaggi famosi, rendendo così omaggio alle star e unendo l'arte alle sue capacità culinarie. Grazie Francesca, andiamo a parlare.